ciao amici io vi avevo chiesto una ragione me ne avete tantissime io vi ringrazio di tutto davvero vi ringrazio di tutto ne avete avvitato un attimo più di quanto pensiate adesso mi prendo un attimo qualche minuto così per star tranquillo noi penso che ci vediamo domani se proprio non ce la faccio perché effettivamente ho anche un po di cose da fare magari domani salto e ci vediamo direttamente giovedì però non vi lascio grazie a voi però non è una scelta mia io avevo chiesto una me ne avete date tante tantissime e per essere stata tranquilla la lydia che mi ha telefonato subito agitata stretta tranquilla lydia per farmi sapere che ora era la visita per fare richiamo perché devo sapere ora se lo è compatibile con impegni ti accompagno io a fare richiamo anche se è il 28 presumo che il 28 io spero che il 25 ci siano le ricacche così sarete tutti più tranquilli fate un weekend sereno altrimenti saranno il 28 e vi seguirò mentre sono in movimento grazie ancora di tutto compagni e compagni ciao